buongiorno buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di allora di amadeus un'idea di flavia zarelli e luca valerio totalmente autofinanziato protocalco tecnologico come se fosse un'antica terza pagina cultura letteratura arti mestieri teatro musica poesia personaggi curiosi e divulgatori scientifici capo del dipartimento di nanofisica dell'istituto italiano di tecnologia autore del saggio scientifico fresco di stampa quello che gli occhi non vedono il microscopio storia di un pezzo di vetro e dell'arcobaleno edito da wepli questa puntata sarà dedicata a richard phillips feyman fisico e soprattutto divulgatore scientifico statunitense premio nobel per la fisica nel 1965 per l'elaborazione dell'elettrodinamica quantistica signore e signori un mito alberto di aspro ciao buonasera buonasera alberto cerchiamo di fare in fretta perché ti facciamo vedere un posto al sole sì sì ma ho chiesto tardino un po sì sì grazie per questo invito niente è un piacere ora di amadeus un programma cult diciamo quantomeno è conosciuto nella zona io vivo nel quartiere di borgoratti a genova fino a san martino è conosciuto anche a fossatello sì anche a fossatello bene 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 anche a fossatello bene senti parliamo di un po di feyman per carità parliamo di tutte queste di tutte queste di tutti questi concetti che abbiamo immesso puoi dire a un povero professore di italiano e latino che aveva due di fisica e cosa intendiamo con innovazione e con processo di innovazione guarda luca se mi permetti vorrei provare a stabilire il primo ponte dato che a genova sono sui ponti proprio utilizzando una cosa che aveva scritto feyman in uno scritto si trovava piacere coprite per provare a vedere se in realtà tu condividi in parte almeno questo racconto e poi se ti lascia piacere sulle sue conclusioni ho un amico artista che alle volte dice cose con le quali non sono molto d'accordo magari raccogli un fiore dice guarda com'è bello e sono d'accordo ma poi aggiunge io riesco a vedere che è bello proprio perché sono un artista voi scienziati lo scomponete in tanti pezzi e diventa una cosa senza vita e allora penso che abbia le traveggole per cominciare la bellezza che vede lui è accessibile a chiunque quindi anche a me credo non avrò un senso estetico raffinato come il suo ma sono comunque in grado di apprezzare la bellezza di un fiore per di più vedo nel fiore molte cose che lui non riesce a vedere posso immaginare le cellule là dentro i complicati meccanismi interni anch'essi con una loro bellezza e non esiste solo la bellezza alla dimensione dei centimetri c'è anche su scale più piccole nelle strutture interne o nei processi il fatto che i colori dei fiori si siano evoluti per adescare gli insetti gli insetti impollinatori ad esempio è interessante significa che gli insetti vedono i colori e allora uno si chiede il senso estetico dell'uomo vale anche per le forme di vita inferiori perché è estetico domande affascinanti che mostrano come una conoscenza scientifica in realtà di lati il senso di meraviglia di mistero di ammirazione suscitati da un fiore e allora l'inizio sarebbe questo per te per tutti gli umanisti e per tutte le persone che si avvicinano alle scienze esatte la scienza può solo aggiungere davvero non vedo come e che cosa possa togliere non so luca se questo risponde in parte alla tua domanda però soprattutto in questo periodo che nel quale stiamo vivendo il periodo dell'emergenza covid dobbiamo riconoscere che c'è una sete di comprensione di quello che fanno le persone che sono ricercatori ricercatrici scienziati e che ogni giorno diciamo mettono un tassello in quella che è la soluzione in questo caso di questa emergenza che è una cosa particolarmente evidente allora credo che feinman abbia dimostrato non solo fosse una persona che aveva una visione oltre ma abbia dimostrato abbia sottolineato come sia assolutamente un dovere per chi fa ricerca per chi fa scienza per chi fa ricerca scientifica applicata di base sia un dovere quello di cercare di spiegare quello che fa ma spiegare quello che fa senza il compromesso di per semplicità dire una cosa che è un po così così no dire le proprie le cose come stanno però rendendole magari comprensibili la lettura di feinman del natale del 59 al caltech è un esempio grandioso immenso di come si possa portare tra le persone quello che è il pensiero scientifico e quello che è il progresso tecnologico eventualmente legato al pensiero scientifico perché poi mi rendo conto che sto rispondendo troppo lungamente alla tua domanda ma va affascinante quello che dici è però perché c'è un aspetto importantissimo e credo che lo cogliamo tutti insieme vale per tutti per gli scienziati e per i non scienziati credo che siamo tutti d'accordo che quello che sta succedendo da un punto di vista dell'evoluzione del progresso scientifico tecnologico è estremamente veloce e allora uno dice ma io come faccio a capire delle cose che cambiano mutano si aggiornano così velocemente cioè com'è che posso capire veramente cioè senza che sia solo un proclama quello che io sento ma qualcosa che riesco a comprendere beh quello che ci diceva già feinman tanti anni fa e nella sua narrazione c'è è che l'unica arma che abbiamo è dotarci di fondamentali quindi studiare il greco e studiare bene la matematica e la fisica se non la meccanica quantistica studiare la grammatica utilizzare bene la sintassi e cercare di comprendere quando quella che è la semantica è traballante o meno per riconoscere non ci vengono dette delle cose che in fondo a volte non hanno fondamento anche per essere in modo noi però invece di seguire quello che sta succedendo da lì partiva feinman feinman in quella lettura del del 59 inizia con quel vorrei illustrarvi un settore in cui si è fatto finora poco diceva nel 59 parlava i fisici e un pubblico generalista sul piano teorico ma che sul piano teorico offre potenzialità si tratta di un campo un po particolare poiché non ci dirà molto sulla fisica fondamentale la sua preoccupazione era quella riferendosi parlando anche ai fisici di mettere le mani avanti è vero non ci dirà molto circa la fisica fondamentale nel senso di che cos'è questa particella ma potrebbe aiutare a capire molte cose interessanti sugli strani fenomeni che avvengono in situazioni complesse e soprattutto potrebbe avere innumerevoli applicazioni tecnologiche e poi dice quello di cui voleva parlare di cui ancora oggi stiamo parlando vivendo nei risultati ciò di cui voglio parlare è il problema di manipolare e controllare le cose ad una scala molto piccola questo è nanotecnologie non è giocare con le cose piccole ma essere in grado di osservare nel molto piccolo e di controllarlo perché ogni piccolo cambiamento ma lo sa chiunque no quando tu prendi un oggetto anche molto grande se fai dei piccoli cambiamenti ne cambi la funzione cioè se fai dei piccoli buchi dentro un lenzuolo molto grande beh la sua funzione sarà quella di fare passare di arieggiare meglio ad esempio piccolissimi buchi quindi prendere diciamo coscienza diciamo di questo di quello che è il che sta alla base appunto delle nanotecnologie per capirlo e per capirlo effettivamente bisognerebbe studiare ecco bisognerebbe dotarsi di fondamentali ma non necessariamente quelli delle scienze esatte cioè se tu riesci a commentare molto bene in questi 700 anni di dante la divina commedia di entrare a fondo nel significato dei canti a provare a decifrare è un ottimo allenamento per decifrare quello che ti sta succedendo tecnologicamente credo almeno ecco questo è il mio punto di vista non so adesso poi se uno può essere d'accordo o meno diciamo su questa cosa e pensa che quando lui diceva questa cosa un po come ci troviamo noi oggi a raccontare di queste cose immediatamente mette nel 59 quindi se oltre 60 anni fa le mani avanti una seconda volta e questo mi ricorda su una scala completamente differente quello che stiamo dicendo in questi giorni quando parliamo della scuola a distanza e ci sembra di usare dei dispositivi estremamente innovativi mentre invece è roba di diciamo 20 30 anni fa lui in quella lettura a un certo punto dice appena accenno a questo cioè a quella scala molto piccola la gente mi parla della miniaturizzazione e di quanti progressi siano fatti fino ad oggi mi parlano di motori elettrici grandi quanto l'unghia del mini di un dito di uno strumento già in commercio con cui si può scrivere il padre nostro sulla capocchia di uno spillo ma questo è niente è il passo più primitivo nella direzione che intendo discutere il mondo là sotto è di una piccolezza stupefacente voglio dire dice Feynman il 22 dicembre del 59 c'è molto spazio là in fondo e è questa la sua la sua prospettiva e ritornerò tra un attimo sullo scalamento diciamo della sua prospettiva ma lui si inquadra in una società e in un mondo scientifico dove era già possibile in realtà fare tantissime cose che oggi facciamo che stanno nel nostro telefonino stanno nel nel controllo del televisore in un robot stanno nelle bioplastiche stanno nel grafene stanno in tutte le cose che continuamente invadono il nostro quotidiano ma lo invadono per aiutarci a migliorare la qualità della vita mi interrompo ma non so perché il nostro dovrebbe essere un dialogo e quindi scusami se no no ma è stato talmente affascinante che ti sarei stato a sentire per ore solo che mi hai bruciato metà delle domande così ma a parte le battute senti io sono uno curioso e la curiosità credo che sia la molla principale che spinge uno scienziato ad agire e uno c'è dell'altro oltre la curiosità due feyman quanto era curioso ti sento a tratti devo dire che dicevo la la curiosità il concetto di curiosità è alla base della della scienza è la molla principale o c'è dell'altro e poi feyman quanto era curioso allora feyman era iper curioso per usare un termine feyman era iper curioso e la curiosità è senz'altro la molla però c'è una lezione interessante di feyman a feyman viene chiesto com'è che a uno viene in mente una scoperta e feyman risponde per caso e allora sembra che sia tutto lì ma in realtà non è tutto lì lì è tutto lì da un'altra parte è tutto lì pensando che quando hai questa idea questa intuizione perché sei curioso vuoi capire delle cose e vuoi cercare di volgerle a farti fare delle cose nuove no quindi vuoi capire come funziona il dna per curare il cancro da un lato e magari per fare un dispositivo di memoria che come dna ti permette di avere a disposizione tutte le informazioni quando servono allora la curiosità è la molla la preparazione però i fondamentali sono importantissimi perché una volta che con la tua curiosità ti sei hai scoperto diciamo hai scoperto qualcosa qualcosa che in realtà c'è già no la natura era già così tu te ne sei reso conto ecco una volta scoperto qualcosa ti viene un'idea che reputi nuova e supponiamo sia nuova feyman dice a questo punto hai una sola chance ed è quella di provare a fare un esperimento che dimostri che la tua idea è corretta se l'esperimento non viene tu puoi essere chiunque il tuo nome può essere quello del più grande fisico del mondo o del dell'ultima persona su questa terra ma vuol dire che la tua idea era sbagliata ora questa cosa dell'idea con la curiosità richiede però un terzo personaggio quelle situazioni intanto cari appennacca quando dice cinque personaggi sei contando la lastra di ghiaccio sette il cane di piccolo il terzo personaggio è la bellezza il terzo personaggio è la bellezza e dirac dirà scriverà delle cose interessantissime e dirac è come feyman uno dei capisaldi del di quella che è la fisica moderna ma soprattutto tutta l'evoluzione anche del pensiero moderno scientifico dirac dirà che se una cosa è bella e qui luca sono costretto ad aprire una piccolissima parentesi per dirac una cosa bella è una bella formula cioè una formula elegante scritta bene che quando la leggi ha una certa armonia e allora dirac diceva se una cosa è bella qualcuno prima o poi dimostrerà che è vera se pensate se gli ascoltatori le ascoltatrici pensano al bosone di higgs e si rendono conto che e se hanno letto qualcosa sul bosone di higgs era una è una particella che tiene in piedi un apparato teorico incredibilmente legato e bello per spiegare tutto ma se nessuno l'avesse scoperto quella idea sarebbe stata sbagliata ci hanno messo 40 anni dirac non poneva un limite a questo e feyman in fondo neanche quindi feyman era iper curioso la curiosità è un ottimo punto di partenza e poi ci vuole anche in qualche modo l'umiltà di provare a decifrare la natura questo sì e confrontarsi con gli altri perché il grande progresso il progresso scientifico credo non solo scientifico ma anche nelle lettere viene quando le cose vengono messe al fattore comune di nuovo se tu pensi al dna e pensi a quella immagine grigiastra con dei buchi neri com'è che rosaline franklin e poi anche watson e cric che presero il nobel per questo e sono riusciti a pensare che quella quella macchia con delle macchiette dentro appartenesse ad una cosa bella e armonica con una scala chiocciola come quella doppia elica sulla quale si sviluppa il dna rosaline franklin aveva una grandissima preparazione in termodinamica era un grandissimo fisico lei non venne insegnata nel premio nobel perché morì prima per cancro ma aveva decisamente una visione oltre quella che può essere la visione di chi raccoglie il semplice dato era estremamente curiosa nel capire quello che quel dato le poteva dire perché quando anche alberto mantovani in questi giorni sta dicendo giustamente proprio in modo esemplare che quello che è importante è il rispetto per i dati quando dice rispetto per i dati vuol dire che dobbiamo anche esercitare la curiosità di capire che cosa quei dati ci vogliono dire ho esaurito con la curiosità sì sì ma io sono curioso di un altro fatto è una domanda quasi più filosofica che scientifica è contraddittorio dire che nel piccolo nell'estremamente piccolo c'è uno spazio infinito no e infatti quella lettura di ferma sentitola c'è ancora un sacco di spazio là in fondo quell'un sacco di spazio là in fondo è qualche diciamo se tu hai infinito associ la mancanza di un limite sì nel numerare le cose ad esempio che potresti trovare in quello spazio piccolo beh se diciamo lucrezio vedeva nella nella luce che passava in una stanza un po polverosa il turbinio della luce gli venivano in mente gli atomi come oggetti come l'oggetto più piccolo al quale potersi riferire senz'altro si è scalato molto e quindi là in fondo c'è un infinito ma soprattutto un infinito in termini di possibilità pensa e credo che sia una cosa nota a molte delle nostre ascoltatrici e ascoltatori io e te e con tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici siamo fatti degli stessi atomi sei atomi sono statomi fanno mente per 99 per cento poi per un per cento c'è qualche piccola ora qualche ascoltatrice si potrebbe domandare perché io non assomiglio a clunei e io magari se lei si palesasse potrei dire perché non assomiglia a scarlett johansson perché è infinita la possibilità di come si possono organizzare questi atomi tra di loro e dare origine a delle cose su una scala più grande e differente quindi direi che non è contraddittorio dire che l'infinito è nel molto piccolo qual è il fascino della matematica se non sbaglio parla anche di questo feyman non del fascino ma di tanto se feyman intanto è un grandissimo matematico cioè uno con la matematica la sa la utilizza estremamente bene lui è veramente l'impianto teorico che ha messo in piedi che è assolutamente eccezionale da un punto di vista matematico ma credo possiamo convenire entrambi anzi con tutti quelli che ci stanno ascoltando che la matematica ha un gran ha una proprietà unica rispetto a qualunque altra disciplina che cataloghiamo come disciplina di scienze esatte se ci pensi la matematica è l'unico linguaggio conosciuto da tutti è la lingua universale cioè quando tu vuoi dire che la somma di qualcosa fa qualcos'altro se scrivi a più b uguale a c questo è compreso da tutti non devi conoscere una lingua una un'altra grammatica usare una sintassi differente è veramente qualcosa di universale che ti permette di mettere in chiaro cercando di eliminare le ambiguità quando ti sarà possibile quello che osservi e quella curiosità che ti porta ad avere delle idee a svilupparle la matematica è quella che ti permette con un foglio di carta di eliminare le ambiguità no senza andare diciamo in una chiamiamo la matematica molto spinta ma ricordiamo tutti le equazioni di secondo grado che abbiamo risolto a scuola credo che questo sia un patrimonio di quasi tutti gli studenti e ci ricordiamo tutti che quelle equazioni di secondo grado ci davano due possibili valori e che spesso il problema riguardava il fatto di scegliere tra uno di questi due valori e noi inserivamo i valori ottenuti guardavamo risultato finale dicevamo beh sì è possibile questo è il valore giusto è la soluzione questo è impossibile questa non è la soluzione di quel problema quindi veramente ha un valore di universalità un valore di veramente è qualche cosa che permette di comunicare in un modo molto semplice e direbbe il genovese anche poco costoso nel senso che è proprio un linguaggio comune non bisogna inventarsi troppe altre cose certo bisogna imparare ad utilizzarle a comunicare usando la matematica però credo che questo sia qualcosa di accessibile veramente a tutti quotidianamente per chi lo volesse fare c'è ultimamente Chiara Valerio che devo dire sta portando la matematica tra le persone dimostrando in tantissimi settori inclusa la politica nel caso quanto questa possa essere determinante quindi ecco credo che ha il valore il suo più grande valore quello dell'universalità ho capito e per quanto riguarda la fisica e la biologia allora sulla biologia mi piacerebbe ritornare sulla lettura di Feynman però so che ho preso già troppo tempo e allora mi piacerebbe mi ero mi ero annotato diciamo alcune 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 parti che c'eravamo che scambiati e poi mi rendo conto che sono andato un po fuori tema sono bruciato un po le cose però c'è un punto nella lettura di Feynman che riguarda la fisica cioè riguarda la ricerca e quindi sì la fisica poi anche se volete l'ingegneria la biologia e tutto il resto salto per un attimo la parte biologica che è pur molto interessante perché a un certo punto in questa sua lettura Feynman dice quante volte lavorando su un oggetto insopportabilmente piccolo e qui io immaginerei proprio una pausa di Feynman che a un certo punto decide di non entrare in quel mondo molto piccolo del quale avrebbe dovuto spiegare molto ma di portare immediatamente l'ascoltatore a qualche cosa che è più consueto perché è il passaggio successivo importante dice quante volte lavorando su un oggetto insopportabilmente piccolo come l'orologio da polso di vostra moglie tutti sanno di cosa stiamo parlando vi siete detti se solo potessi addestrare una formica a farlo è quell'idea che hai introdotto prima dell'infinito dentro a quel molto piccolo bene ma il suggerimento di Feynman nel 59 il suo suggerimento è quello di addestrare una formica ad addestrare un acaro a farlo cioè infinitamente a scalare nel piccolo e immediatamente a Feynman viene in mente una cosa ricordiamoci che nel 59 che possibilità abbiamo di realizzare macchinari piccoli ma mobili non è chiaro neanche se potrebbero servire però poi svela quella cosa della quale abbiamo parlato un attimo fa che fa comunella con la curiosità e dice ma certo sarebbe molto divertente ottenerli sì perché la fisica la matematica l'applicazione di uno studio che passa appunto per i fondamentali ti garantisce a fronte di una certa fatica di un certo impegno di un certo sacrificio ma che è quello che ha il violinista quando impara a suonare il violino o il letterato quando cerca di capire che cosa sta scritto in qualche cosa ecco quando hai scollinato allora immediatamente tutto diventa divertente appagante e dalla fisica quella cosa così piccola che ha la formica a destra per aggiustare l'orologio da polso dell'odio di un amico viene scalato immediatamente nella biologia anzi nella medicina e Feynman secondo me lì si supera perché dice un mio amico albert hibbs suggerisce una interessante possibilità terapeutica e cioè ma che ideo ripilante che il paziente possa inghiottire il chirurgo si mette il chirurgo meccanico nel vaso sanguigno e questi seguendo la corrente arriva al cuore si guarda intorno e fa quello che deve fare e poi dice ora viene il bello ma come facciamo a costruirlo ora viene il bello è venuto il bello pensate al vaccino che abbiamo è un chirurgo è un medico che viene inghiottito è quell'RNA che viene iniettato e che scatena una reazione immunitaria in modo da permettere a quel paziente di riconoscere un successivo attacco e tutto viene fatto su quella scala poi molti possono pensare a viaggio allucinante di asimo però al di là di questo siamo in grado oggi effettivamente di introdurre il medico dentro al paziente e di curarlo anzi di fare in modo che il paziente venga curato solo quando ne ha bisogno avendo il medico addosso ma questo fenman lo diceva nel 1959 bene senti l'ultima domanda che ti faccio è quali sono i tuoi progetti futuri allora un mio progetto futuro si chiama momix come i danzatori tra colori e acrobazie si chiama momix perché è l'acronimo del costruire lì mi spiace ma insomma un microscopio super potente che utilizza la luce il quale raccoglie tantissime informazioni cioè manda la luce sul vivente raccoglie tantissimi messaggi dal vivente e poi produi un quadro un'immagine dove magari non riconosci immediatamente chi lo ha prodotto e se tu guardi un spettacolo dei momix a un certo punto vedi delle figure di luce che solo dopo un po capisci che sono dei ballerini che le hanno animate in un certo modo allora il mio progetto futuro è quello di investigare il vivente con la luce produrre delle immagini che non mi aspetto ma da quelle immagini provare a decifrare i meccanismi con cui il vivente vive in particolare come funziona l'organizzazione del dna dentro ognuna delle nostre centomila miliardi di cellule e come fa a decidere quando e come rilasciare servono per fare il passo successivo per tornare in un campo più letterario puoi immaginare questo progetto e cerca di capire come avviene questo meccanismo immagina di passare davanti a una grandissima biblioteca pubblica che contiene milioni di volumi in bicicletta una mattina stai passandoli davanti e quando ti trovi proprio davanti a questa biblioteca esce tra felata o tra felato una bibliotecaria un bibliotecario e ti porta un volume che ha preso tra i milioni di volumi e tra le centinaia di migliaia di scaffali che sono lì dentro te lo porta aperto ad una pagina sulla quale ti indica una frase che è quello che sarà il tuo prossimo passo ma come diamine ha fatto quella bibliotecario quel bibliotecario a immaginare che stavo passando là davanti e che questa era l'informazione che mi doveva dare certo se sbaglia scaffale se cade dalla scala se sbalcisce il libro l'informazione mi arriva magari un po corrotta sbagliata e allora sarebbe la lattia ma se invece compie tutto bene io vado avanti allora a me piacerebbe capire usare la luce per capire questo meccanismo grazie grazie Alberto Diaspro sei stato fantastico no scusami no adesso va bene no 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 va bene così va bene così senti io e te ci diamo appuntamento un giorno in un determinato negozio appena possibile ci vediamo e ti ringraziamo alla prossima e speriamo di trovare un attore di un posto al sole ma certo io avrò sotto braccio in quel negozio magari un disco di Greg Lake a ricordare le grandi cose che ha fatto non solo con gli Emerson grazie per averci seguito nella descrizione troverete il link alla puntata originale in youtube seguiteci anche attraverso i nostri canali facebook, instagram, twitter, periscope e twitch cercate Allora di Amadeus tutto attaccato senza apostrofo state ascoltando Some Autumn Strings di Stefan Kartenberg licenza Creative Commons attribuzione non commerciale 3.0 arrivederci al prossimo podcast grazie a tutti